Ed ora invece è il momento della cultura nel nostro telegiornale con un libro di poesie dedicato a un remoto paesino della Calabria sullo Ioneo. Sentiamo lo scrittore intervistato da Andrea Piccardi. Professor Monti, professore alla Lewis ma anche scrittore, oggi presentiamo Lettere Ioniche, uno dei suoi libri, un libro di poesie. Ecco, com'è nata l'ispirazione per questo libro? Perché Lettere Ioniche? Questo libro raccoglie un'ottantina di poesie che io ho scritto nell'arco di 5-6 anni in occasione delle mie vacanze estive che ormai appunto da numerosi anni trascorro sulla costa Ionica calabrese. E' una costa che mi ha sempre molto affascinato, non solo per la bellezza naturale ma anche per la storia che c'è dietro queste terre, storia che affonda naturalmente nei primordi della nostra civiltà e che ancora oggi però traspare soprattutto nel paesino, chiamiamolo paesino perché Sant'Andrea a posto dello Ionio che è il fulcro, il teatro delle mie poesie, è un paesino di 2.000 abitanti circa, d'estate diventano anche 6.000 naturalmente, ma che è un quacevo di storie e anche di testimonianze dell'antichità. Sappiamo che qui a Roma, nel Lazio, ma nella capitale in particolare c'è una grandissima comunità calabrese di persone che arrivano proprio dalla Calabria, ecco, che cosa vorrebbe dire loro in riferimento a questo libro? Che cosa potrebbero trovare di loro gusto, di loro gradimento questi calabresi ormai romani? Intanto quello che io ho presentato a questo libro, che è uscito da qualche settimana, è proprio la comunità degli Andreolesi a Roma, che è più numerosa degli abitanti di Sant'Andrea, intanto li saluto. La cosa che ha colpito loro è il fatto che questa opera di lirica è scritta da un non calabrese, perché come alcuni spettatori anche vostri sapranno e anche si capisce dal mio accento, io sono un uomo del nord, provengo da una città di Como, quindi quasi al confine con la Svizzera. E quindi vedo queste terre con un occhio di sorpresa, e quindi queste terre mi hanno stimolato queste poesie, che sono tutte lettere d'amore in realtà, una donna immaginaria, dove io ho tratto ispirazione proprio dal calore di quella terra, dal calore anche dell'ospitalità di questo piccolo paese che mi ha accolto come se fossi un fratello, un consanguigno dal primo giorno in cui sono arrivato e ho trovato casa. Quindi sicuramente dico a loro, è una testimonianza della bellezza della loro terra, che secondo me immagino anche quelli che oggi vivono a Roma, ma che comunque, e lo vedo, tornano appena possono nel loro bel paese, e questo vale anche per altri calabresi, non solo gli andreolesi naturalmente. Lettere ioniche. Dal profondo della notte di questa riviera andreolese, ho desiderato affogare nella tua acqua. Dal profondo di questa terra dico, sono un piccolo seme dentro il tuo giardino. Ho bisogno di te, e se diventerò grande, saprò darti il mio frutto. Un'unica, piccola, proibita, maledetta, rossa mela. A prima vista potrebbe sembrare un po' strano, insomma, che un professore di economia come lei, un professore da Lewis, si dedichi poi alle poesie, addirittura ai poemi. Ecco, come mai e poi come fa a conciliare queste due attività? Sì, in realtà appunto la domanda va posta al contrario, nel senso che io riesco a conciliare la mia attività di professore di politica economica, grazie al fatto che ho uno sfogo e quindi riesco poi a trasferire le mie emozioni in quella che è la mia vera attività, che è quella di letterato e di poeta. Poi naturalmente, ripeto, con quest'occhio io mi applico alla società civile e quindi insegno politica economica.